Cari cittadini, buonasera. Io sono la più giovane dei candidati, mi chiamo Maristella Garbagri perché non mi conoscesse, ho 22 anni e lavoro nel settore agricolo. Ho deciso di candidarmi con il movimento politico Palagianello Benecomune perché ritengo sia l'unica linea politica che rispecchi i miei veri ideali, ideali che purtroppo non esistono più. Ho vissuto in prima persona il declino del nostro Paese da qualsiasi punto di vista e questo è uno dei motivi che mi ha portato a scendere il campo e a prendere una giusta posizione. Nel corso dei giorni sono state tante le richieste da vari schieramenti politici, così come tante sono state le pressioni personali per indurmi a cambiare posizione. Ho l'estrema convinzione che Palagianello Benecomune sia la mia maestra e questa è sicuramente un'altra motivazione che mi ha condotta qui con spontanea volontà, tengo a precisare. Tengo a sottolineare che non temo l'ascesa in campo, non temo questo dal momento in cui riconosco quelle che in tempo possano essere state le mie debolezze. se possiamo definire. In contempo credo fortemente che nella stramaggioranza dei casi dalle più grandi debolezze si possano scaturire le più grandi forze. Io non ambisco al voler o poter rappresentare un esempio, ma perlomeno penso di essermi rialzata, posso affermare questo e vorrei perlomeno rappresentare la speranza di tutti coloro che nella vita sono inciampati come noi e la nostra comunità. Per questo ho deciso con estrema convinzione di essere qui con questa squadra, con queste persone e soprattutto espongo l'onore di rappresentare il nostro candidato a sindaco Milanto Nicervi. Concludo esponendo il mio unico ed ultimo invito, ovvero essere espressione di collettività. Palagianello, rialziamoci insieme e facciamo la testa alta. Aplausos 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 Grazie a tutti